La prima volta di Brigitte Bierlein e anche la prima volta dell'Austria. Bierlein, che mercoledì ha rilasciato la sua prima dichiarazione parlamentare, è la prima donna a ricoprire il ruolo di cancelliera in Austria. A lei tocca guidare il governo di transizione che dovrebbe traghettare il paese fuori dalla crisi, dopo lo scandalo per corruzione che ha travolto il governo guidato dall'ex cancelliere Sebastian Kurz e in particolare il suo vice, l'ultrapopulista Heinz Christian Strache. Nel suo discorso la cancelliera ha voluto ecumenicamente ricordare come il Parlamento austriaco sia composto da differenti identità politiche, etniche, religiose e sessuali, sottolineando il bisogno di lavorare uniti. Nel frattempo una possibile data per le elezioni è fissata al 29 settembre. Il favorito resta Kurz, i cui popolari hanno registrato un boom di consenze alle europee, ma i cui alleati populisti hanno pagato lo scandalo con una flessione di diversi punti.